Musica Ben trovati con le breaking news del mattino, in primo piano la vicenda di Cristina, la giovane mamma di Alberoro, di cui abbiamo parlato molto nei mesi scorsi, è tornata ieri a casa e qui ha potuto vedere per la prima volta la piccola Caterina. Momenti di grande commozione nel centro della Valditiana. Parliamo invece della rotonda di via Fiorentina, una querelle infinita, infatti il consorzio che aveva vinto l'appalto, alziato, bandiera bianca, i costi aggiuntivi sono troppo elevati, adesso il comune dovrà correre ai ripari. E' in chiusura il calcio, oggi è lunedì, la conquista del terzo posto per i play-off dell'Arezzo con il Gavorrano, la salvezza della San Giovannese, ma soprattutto la vittoria delle ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile che ieri hanno vinto a Perugia conquistando matematicamente la Serie B. Complimenti alle ragazze di Testini e al Presidente Anselmi. E' tutto per le break del mattino. Grazie a tutti.